Buon pomeriggio benvenuti e benvenute a questa che è la diretta conclusiva della sesta stagione di snack news il progetto nato dalla collaborazione tra il Corriere della Sera e l'Università Bocconi per spiegare l'attualità con un linguaggio semplice e accessibile a tutti io sono Chiara Severgnini in studio con me c'è anche Paolo De Cristina ciao a tutti e questa per noi è un'occasione speciale prima di tutto perché è l'occasione per conoscere i vincitori e le vincitrici di questa edizione del concorso del contest snack news a scuola qui andremo a premiare i ragazzi e le ragazze che hanno realizzato la migliore snack news del 2023 e che si sono aggiudicati o aggiudicate il premio della giuria e poi perché questa diretta arriva a conclusione di un percorso che ci ha accompagnato per sei anni e che ci ha permesso di raccontare sviscerare e analizzare insieme ai professori e alle professoresse della Bocconi tantissimi dei temi decisivi di questi ultimi anni dalla pandemia con la crisi che ha provocato alla successiva ripresa passando per le grandi innovazioni tecnologiche che stanno cambiando il nostro presente dalle criptovalute all'intelligenza artificiale che ha fatto tanto discutere proprio in questi ultimi giorni senza dimenticare le grandi sfide economiche non solo della nostra società dalle discriminazioni di genere al calo delle nascite volendone citare solamente due è stato un'avventura lunga e ricca di soddisfazioni vediamo qualche numero che racconta fa il punto su questa progetto editoriale di snack news si guarda chiara davvero un'emozione oggi parlarne perché mi ricordo quando abbiamo iniziato da un'idea di corredere la sera e Bocconi facciamo questo progetto proviamo a parlare ai ragazzi non era semplice come cosa perché i temi che noi volevamo toccare non erano temi sempre all'ordine del giorno per i ragazzi invece la sfida secondo me è stata giusta l'idea era giusta e la sfida è stata vinta vi sono segnato qualche numero solo per appunto per farvi capire subito plasticamente quello di cui stiamo parlando abbiamo detto il progetto è nato nell'ottobre del 2017 e quindi si tratta di sei anni di progetto e le puntate sono state oltre 400 quindi 400 puntate potete immaginare quanti anche professori della Bocconi sono stati contattati e quanto è stato importante anche per Bocconi ma soprattutto per i ragazzi questo progetto e alcuni numeri a cui noi teniamo molto perché sono più di 20 milioni le video views complessive sui canali social e sul sito di corredere.it 50 milioni la rich social totale e quindi sono numeri davvero importanti 35 gli appuntamenti live perché dal quarto anno abbiamo cominciato anche con questo appuntamento live come quello che stiamo facendo in questo momento e per un totale di più di 7 milioni video views e ancora di più la cosa che ci inorgoglisce 634 i video pubblicati dai ragazzi nei contest che abbiamo portato avanti quindi insomma sicuramente c'è grande soddisfazione anche un pizzico di emozione ma siamo sicuri che i ragazzi sono cresciuti con noi perché anche noi con loro attraverso questi temi è questa sfida che secondo noi è davvero vinta esatto una sfida che ha sempre messo al centro le esigenze informative della generazione z dei ragazzi e delle ragazze più giovani che abbiamo voluto coinvolgere anche attivamente con il contest prima di entrare nel merito però con la premiazione abbiamo due ospiti di eccezione qui con noi daniele manca vice direttore del corriere della sera che dall'inizio un nome tutelare del progetto snack news e il rettore della università Bocconi Francesco Billari che sono collegati con noi benvenuti grazie grazie a tutti voi grazie grazie a Francesco Billari lettore dell'università Bocconi Francesco sarà d'accordo con me nel ricordare Gian Mario Verona che è stato il rettore che ha voluto questo progetto e ringraziare Francesco per aver continuato con noi in questa in questa avventura un'avventura non so se tu sei d'accordo Francesco che da un certo punto di vista ci ha creato se vogliamo più problemi che cose come dire di cui essere soddisfatti perché guardate parlare ai ragazzi che partecipano che frequentano le scuole superiori e parlargli di economia dello spazio di satelliti di internet di demografia e non solo di queste cose non è così semplice per gli studiosi per l'università della Bocconi per i professori e significato come dire demoltiplicare il loro linguaggio cioè renderlo davvero accessibile per noi giornalisti è stato un bagno di umiltà abituati come sapete a stare un po su un piedistallo a parlare no a chi ci ascolta ebbene ci siamo dovuti mettere invece non solo sullo stesso piano ma abbiamo dovuto ascoltare i giovani e ogni anno questo contest è servito a noi per riuscire a capire dove sbagliavamo quindi come appunto come immagino sarà d'accordo il rettore Billari dell'università Bocconi il Corriere della Sera che è un'istituzione che ha 147 anni insomma ha dovuto ancora una volta capire che innovare è l'unica strada per riuscire ad avere un futuro non so se sei d'accordo Francesco sono assolutamente d'accordo grazie Daniele ringrazio ovviamente il mio predecessore che hai citato Gian Mario Verona che è stato il primo attore per la Bocconi siamo come istituzione nate molto vicine la Bocconi nasce un po' meno di 121 anni fa molto vicino al Corriere della Sera e come il Corriere della Sera ha cercato di portare avanti l'innovazione continua partendo da Milano andando verso il mondo è stato molto bello questo progetto perché ci ha sfidati come ricordato molto bene ci ha sfidati nel parlare alle ragazze e ai ragazzi che giustamente devono essere ambiziosi giustamente vogliono cambiare il mondo a loro modo non vogliono sentire noi delle generazioni più anziane bisogna dire così dire esattamente quali devono essere direzioni quali devono essere priorità il nostro compito ovviamente era provare a dare il quadro provare a stimolare parlando dell'attualità in un sistema quello scolastico italiano dove c'è grande necessità di innovare perché troppo poco nella scuola dell'obbligo nelle scuole superiori si parla dell'attualità si parla delle grandi sfide del mondo quindi grazie all'intuizione del Corriere della Sera la capacità divulgativa dei giornalisti al desiderio di affrontare l'attualità guardando anche il lungo periodo sono molto felice che siamo riusciti a sfidare le ragazze e i ragazzi che hanno avuto delle idee eccezionali e che incito a continuare incito a imitare coloro che sono stati premiati si tratta di affrontare di nuovo le grandi sfide del mondo e non fermarsi sempre ai libri di scuola poi magari alle generazioni un po' più anziane starà a stimolare tutto il sistema perché si apra un pochettino alle idee dei ragazzi e delle ragazze compresi gli adolescenti e chi frequenta le scuole superiori Infatti questo secondo me è un aspetto importante perché quando abbiamo cominciato appunto nel 2017 abbiamo cominciato qui al Corriere della Sera in una sala, buzzati, 150 persone poi c'era anche il foyer un po' pieno e insomma la prima volta ci siamo detti speriamo di riuscire a coinvolgere i ragazzi poi ci siamo dovuti spostare siamo venuti in Aula Magna alla Bocconi e lì abbiamo cominciato a contare nell'ordine delle migliaia non ci siamo fermati neanche durante il Covid pensate e con il Covid anche lì abbiamo fatto che cosa? Ci siamo presi in carico quest'idea di continuare ma usando la tecnologia usando appunto innovando anche su Snack News insomma il risultato guardate fare 70 puntate ogni anno 70 è una cosa enorme infatti io qui voglio ringraziare le persone che non si sono mai viste quelle 50 persone pensate dietro Snack News ci sono 50 persone tra Corriere TV redazioni e via dicendo che hanno lavorato per arrivare a questo risultato di 400 puntate voglio fare un esempio stamattina in riunione al Corriere della Sera così con un pizzico d'orgoglio c'era anche Paolo abbiamo detto pensate abbiamo fatto 400 puntate di Snack News il capo redattore della cultura ha subito precisato pensate la lettura è arrivata a quota 600 la lettura è settimanale del Corriere della Sera ecco questo per dare la dimensione di che sforzo ha fatto l'Università Bocconi e di che sforzo ha fatto il Corriere della Sera per andare verso un obiettivo guardate un obiettivo molto semplice per i ragazzi che ci stanno ascoltare la nostra soddisfazione maggiore è stato vedere voi in azione vedere voi di qualsiasi tipo di scuola licei istituti professionali istituti tecnici qualsiasi tipo di scuola vedere voi interessati e coinvolti ebbene per un un medium come il Corriere della Sera che ha l'inclusione nella sua nella sua modo d'essere perché più includiamo e più come dire non solo vendiamo copie ma facciamo il nostro mestiere di formare l'opinione pubblica è stata una cosa eccezionale e io credo che per un luogo un'agenzia culturale come l'Università Bocconi questo sia un altro risultato importantissimo uscire fuori appunto dall'Accademia e invece far capire al Paese quanto sia importante un'Università non solo per le cose che studia ma anche per le persone che riesce a far ruotare attorno a se stessa e qui mi taccio però perché deve parlare chi dell'Università appunto ne è guida noi cerchiamo di prendere il meglio delle ragazze e ragazzi che entrano da noi quando hanno 18-19 anni e poi fioriscono però stiamo sempre più cercando di andare a parlare con loro prima e di ascoltarli ascoltarli perché di nuovo ci troviamo in un Paese dove anche per questioni demografiche che sono state richiamate prima il peso dei giovani è sempre inferiori e quindi è bene sentire di prima persona quali sono i contributi che possono dare questi ragazzi e queste ragazze noi studiamo la società studiamo l'economia studiamo il mondo insegniamo queste materie però abbiamo continuamente bisogno di ibridarci di imparare anche dalla società e la società ha una parte dinamica per costruzione la parte dinamica della società sono le nuove generazioni la parte più dinamica società e quindi è stato molto importante per noi partecipare a questa iniziativa anche in prima persona perché abbiamo imparato molto bene tra l'altro non so se possiamo dirlo caro rettore ma snack news finisce per come l'avete vista sino adesso però stiamo preparando qualche sorpresa per l'autunno quindi non finisce qui totalmente ecco ci innoveremo innoveremo ancora una volta Chiara Paolo a voi va bene grazie allora io ringrazio davvero Francesco Billari e Daniele Manca per queste parole che ci inorgogliscono perché siamo davvero contenti di aver fatto parte di questo di questo progetto così ambizioso grazie grazie a voi grazie a voi per un lavoro preziosissimo grazie allora noi proseguiamo la nostra puntata abbiamo parlato appunto della creatività delle ragazze e dei ragazzi della loro ambizione allora passiamo Chiara alla fase che loro aspettano perché andiamo a vedere quali sono le puntate del contest che hanno vinto assolutamente il rettore citava il desiderio di cambiare il mondo dei ragazzi e delle ragazze e come ogni anno è stato molto interessante vedere i temi scelti da loro per dedicarsi poi a questa sfida di realizzare la loro versione del nostro format delle snack news colpisce sempre per esempio notare come l'ambiente sia un tema ricorrente all'interno delle snack news realizzate dai ragazzi e delle ragazze e si vede molto anche da quelle che hanno diciamo conquistato i primi posti nella prima categoria di cui andiamo a elencare i vincitori che è tecnologia e innovazione per ciascuna categoria abbiamo individuato tre gruppi premiati e a fianco a queste categorie poi vedremo anche il premio della giuria e il premio per la migliore snack news quindi per la categoria tecnologia e innovazione al terzo posto si colloca un gruppo di ragazzi e ragazze del liceo classico Cairoli di Varese per la snack la batteria al sale come vi dicevo prima il tema dell'ambiente quindi anche della ricerca di nuove forme di energia riecheggia anche all'interno di questa snack a carattere tecnologico secondo posto poi per il liceo classico Umberto I di Napoli per la snack il metaverso un altro tema decisamente di attualità e infine primo premio per i ragazzi e le ragazze sempre del liceo classico Umberto I di Napoli che hanno realizzato la snack news Marte un possibile piano B quindi si parla di spazio allora invece adesso passiamo alla categoria di cultura e spettacolo anche qui andiamo avanti dal terzo posto fino al primo al terzo posto troviamo il show artistico Modigliani di Giussano in provincia di Monza e Brianza con la snack sul tema film o serie tv cosa si guarda di più oggi un tema assolutamente centrale in questi anni di pandemia di cui abbiamo spesso parlato anche noi al secondo posto un altro tema davvero al centro delle nostre puntate perché insomma siamo in Italia quindi il turismo la valorizzazione del territorio questa è la snack news che ha raggiunto il secondo posto e la propone il liceo classico Beccaria di Milano al primo posto invece della categoria cultura e spettacolo c'è il liceo classico Umberto I di Napoli con un altro tema davvero importante perché la cultura non è per tutti la prossima categoria è quella delle snack news legate ai temi di esteri il terzo posto va al gruppo di ragazzi e ragazze del liceo scientifico Carrel di Milano con una snack intitolata Inferno nel Caucaso la verità sugli scontri un lavoro ambizioso sia per la complessità del tema sia per la realizzazione tecnica secondo premio per gli studenti e le studentesse del liceo scientifico Moreschi sempre di Milano con una snack che parla di beneficenza Ricostruiamo l'infanzia si intitola primo premio per il liceo classico Cairoli di Varese con la snack news Qatar 2022 cosa c'è dietro? E allora adesso passiamo invece alla categoria dello sport che ha un solo vincitore non c'è podio ma c'è solo un solo vincitore e rimaniamo appunto al liceo classico Cairoli di Varese perché un altro primo premio arriva nella categoria sport e il tema di cui si è parlato molto e di cui si è molto dibattuto in questi ultimi mesi ha il titolo Nastro Viola andiamo invece adesso alla categoria Economia ovviamente una delle categorie più toccate da snack news in tutti questi anni al terzo posto c'è il liceo classico Umberto I di Napoli ancora con il tema Development of E-commerce World al secondo posto il tema Donne e lavoro una sfida possibile che propone il liceo classico Borrelli di Santa Severina e il primo posto della categoria Economia viene raggiunto dall'Istituto Tecnico Economico Tosi di Busto Arsizio con il tema Le signore non parlano di soldi gender gap Ultima categoria è quella dedicata alla cronaca locale una categoria a cui teniamo particolarmente dal momento che la territorialità dell'informazione è decisiva e lo vediamo anche con il lavoro di tutti i dorsi locali che fanno parte dell'ecosistema corriere per il terzo posto abbiamo una snack realizzata dal liceo scientifico opzioni scienze applicate da ponte di Bassano del Grappa il titolo è SERD Bassano del Grappa secondo posto per il liceo classico Umberto I di Napoli con una snack news dedicata alla libertà di stampa un tema ci sta decisamente a cuore e infine sul primo gradino del podio il liceo scientifico opzioni scienze applicate da ponte di Bassano del Grappa di nuovo con una snack intitolata Donazioni per la vita è il momento adesso del premio della giuria eh sì passiamo agli ultimi due gli ultimi due premi che assegniamo oggi quello il primo è ad assegnare è il premio speciale quello della giuria appunto che viene eh vinto ancora dal dal liceo classico Umberto I di Napoli eh con il tema la palla da tennis rompe le barriere il nome del gruppo che ha proposto questa fantastica snack news si chiama Le Seguaci il docente di riferimento è Patrizia Riccardi e abbiamo eh con noi collegate le ragazze che hanno che hanno portato avanti eh che hanno presentato questa snack news eh non so se sono collegate con noi abbiamo la capogruppo Iole Racuglia poi ci sono Elisa Barulli Giulia Lucia Sciarelli Diana Del Cappellano Elena Sofia Riccio ciao a tutte ragazzi buonasera buonasera allora prima di parlare con voi direi che possiamo vedere la vostra snack news così la guardiamo e poi eh ne parliamo buonasera tennis in carrozzina debuttò nel 1976 negli USA ed allora ha avuto rapido sviluppo nel 1998 è stata fondata l'International Wheelchair Tennis Federation ente organizzativo per il tennis in serie a rotelle e in Italia il wheelchair tennis è sviluppato a partire dal 1989 segue quasi totalmente le regole del tennis tradizionale richiede le stesse toti di abilità strategia e preparazione atletica la sola differenza con il tennis per normodotati è la possibilità che la pallina rimbalzi per due volte praticano il tennis in carrozzina giocatori con disabilità a uno entrambi gli arti inferiori e giocatori con disabilità a tre o quattro arti il tennis in carrozzina prevede solo due categorie e in funzione delle specifiche limitazioni sono suddivisi in open e quad tennis in carrozzina con limitazioni anche nell'uso degli arti superiori il tennis è inclusione è un modo per ritrovarsi e star bene senza barriere ecco perché il settore wheelchair all'interno della FITP si sta strutturando come mai era accaduto in passato tutto ciò mentre le nostre nazionali della specialità si distinguono ad alti livelli emergendo tra le realtà più importanti del panorama mondiale ad Antalya in Turchia le qualificazioni europee della BNP Paribas World Team Cup hanno visto gli azzurri sul secondo gradino del podio tra cui Mario Naselli che oggi ci onorerà con una breve intervista sono Mario Naselli ho 39 anni sono nato a Napoli e a tempo libero quello che mi rimane anche se è poco sono un'attreta di tennis wheelchair tennis e all'età di 24 anni ho avuto un incidente in moto tornando al mare da Positano ho diventato paraplegico in quanto ho avuto una lesione alla colonna vertebrale senza di un'unità spinale e di un centro specializzato ho dovuto trasferirmi per un lungo periodo di più di 6 mesi a Imola per seguire un percorso di riabilitazione è stato un periodo molto difficile della mia vita in quanto ho dovuto affrontare tutta una serie di problemi che non avrei mai immaginato nella struttura c'erano ragazzi che venivano da incidenti molto più gravi del mio e questo mi ha fatto capire la fortuna che avevo avuto ho avuto l'occasione di provare diversi sport tra cui il tennis sicuramente dire che adesso per assurdo gioco molto meglio da seduto che prima da in piedi la mia disabilità non mi ha creato particolari problemi a livello sociale sicuramente ha cambiato il modo di relazionarmi con le altre persone non penso che la società italiana attualmente fornisca dei validi aiuti alle persone con disabilità è ancora molto molto da fare non si deve semplicemente solo aiutare ma si deve lavorare molto sull'inclusione per non far sentire le persone disabili diverse i miei prossimi obiettivi sportivi sono dire la classifica del ranking internazionale adesso che sono stato anche convocato in nazionale magari toglimi qualche soddisfazione con la nazionale qualificazione alle Paralimpiadi di Francia 2024 la pala da tennis non sa quanti anni ho non sa se sono maschio o una femmina se sono in piedi o in carrozzina di che colore la pelle la pala da tennis rompe le barriere allora grazie abbiamo visto questa snack news davvero interessante non trovi Chiara? assolutamente sì il tema degli sport paralimpici che non sempre trovano lo spazio adeguato nella narrazione pubblica qui è stato messo deliberatamente al centro complimenti ragazze per il vostro lavoro davvero complimenti anche da un punto di vista tecnico perché la snack è davvero montata bene e ci ha colpito davvero ha colpito la giuria appunto e vi ha segnato il premio allora ragazzi le classiche domande di rito quando avete approcciato il contest di snack news come avete deciso di scegliere questo tema così importante? allora fondamentalmente dopo un po' di brainstorming insomma abbiamo avuto anche l'appoggio della nostra docente ci ha consigliato di trattare questo tema e abbiamo avuto la fortuna di conoscere almeno io personalmente sin da piccola Mario Naselli che è un atleta paralitico e quindi insomma nonostante stesse facendo le gare in Turchia per la qualificazione al mondiale ha trovato spazio da dedicare a questo progetto è un tema diciamo poco trattato specialmente tra noi giovani infatti basterebbe pochissimo per migliorare l'inclusione di di attreti paralitici come appunto Mario o con una qualsiasi disabilità quindi e senti e come vi siete organizzati perché come diceva prima il nostro vice direttore c'è sempre un team che lavora dietro a un progetto e anche voi siete assolutamente un team come vi siete organizzati chi ha deciso cosa fare come vi siete mosse insomma allora diciamo abbiamo consultato le varie tematiche abbiamo ritenuto che questa fosse la migliore e abbiamo cercato un po' di video un po' di informazioni su internet chiesto aiuto appunto a Mario anche altri sportivi e poi Diana ci ha dato che ci ha aiutato a montare il video insomma ognuno di noi ha registrato le varie parti quindi diciamo è stato sì un lavoro di squadra alla fine tutti ok insomma il vostro tema è davvero interessante siete giovanissime diceva appunto l'atleta che nella vostra puntata che c'è ancora molto da fare ecco voi che siete così giovani che avete tutto il futuro davanti anzi che sarete voi a fare il vostro futuro siete pronte a dare il vostro contributo per fare qualcosa in più anche su questo tema sì certo già da 4-5 anni facciamo parte di questa associazione che dà una mano ai ragazzi disabili che non ogni weekend un po' saltuarialmente specialmente in questo periodo di pioggia insomma promuove l'inclusione dei ragazzi disabili più nello specifico dei ragazzi con la sindrome di Down nel gioco del tennis tutte le domeniche qui nella nostra città si tengono questi incontri in cui noi diciamo diamo una mano sia ai maestri di tennis ma anche socializzando con questi ragazzi quindi che è la cosa fondamentale davvero ragazzi bravissimi siamo davvero contenti di avervi ospitato oggi per parlare con voi di Snake News ma anche del vostro del vostro progetto e della vostra attività grazie ancora grazie a voi buonasera in bocca al lupo grazie allora aspettate ragazzi sì ci stavamo dimenticando una cosa più importante a distanza ma vi diamo virtualmente il vostro premio la vostra targa che sicuramente sicuramente avrete sono davvero davvero contento di darvi la ragazze grazie arrivederla ok passiamo adesso a Chiara perché ci dice qual è la Snake News che ha vinto il contest assolutamente dopo il premio della giuria veniamo al premio della migliore Snake News del 2023 si tratta di un lavoro realizzato da un gruppo di studenti e studentesse del liceo artistico Modigliani di Giussano seguiti coordinati dalla professoressa Daniela Giussani il team che ci ha lavorato si chiama Multimodi e la loro bellissima Snake News si intitola AI Art vera arte oppure no ragazzi benvenuti e complimenti grazie buonasera vi presento i protagonisti di questo premio prima di vedere insieme la loro snack il capogruppo si chiama Thomas Longhi poi abbiamo all'interno della squadra di lavoro della piccola redazione che c'è dietro questa Snake News anche Manuel Mantovanelli Simone Fallanca e Sofia Giussani vediamo insieme la loro Snake News osservate attentamente queste immagini che ne pensate ma soprattutto chi pensate che le abbia realizzate nessuno si chiama iArt sono software in grado di generare immagini e disegni attraverso l'intelligenza artificiale si parte scrivendo una linea di testo e con un singolo click nel giro di pochi secondi il computer crea una serie di immagini completamente originali mai viste prima vi starete chiedendo come funziona esattamente l'iArt questi software che di fatto sono le intelligenze artificiali stesse sono capaci di funzionare grazie all'apprendimento automatico che insegna i computer a compiere azioni come l'essere umano gli AI imparano dall'esperienza svolgendo lo stesso compito migliaia di volte migliorando ogni volta nel nostro caso l'AI viene allenato a osservare e rielaborare decine di migliaia di immagini e dipinti fino a riuscire a generare di completamente nuovi quasi indistinguibili da opere fatte dall'uomo questo nuovo modo di concepire l'arte ha sollevato però diverse polemiche soprattutto dagli artisti preoccupati di essere oscurati da questo strumento sempre più famoso anche importanti registi come Ayao Miyazaki e Guillermo del Toro si sono esposti sul tema ritenendo la forma d'arte un insulto alla vita stessa e una banale copia della vera arte per non parlare del problema del copyright dato che la AI crea immagini attingendo da fonti online spesso rielabora e prende ispirazione da fonti teoricamente protette stessa cosa nel mondo della musica è già avvenuto per esempio che la musica generata da AI sfruttasse in modo improprio brani online preesistenti con il disappunto dei musicisti interessati nel settore musicale sono stati introdotti regolamenti a tutela del copyright che non permettono più all'AI di usare brani già esistenti ma per quanto riguarda il mondo dell'arte in generale ancora non è così rieccoci allora ragazzi complimenti per il tema che avete scelto che è attualissimo tanto per cominciare ma è anche controverso come avete spiegato voi stessi nella snack news curiosità come vi siete suddivisi i compiti ogni redazione ha bisogno del contributo di più persone anche a seconda delle inclinazioni di ciascuno c'è stato qualcuno che si è occupato del montaggio e qualcun altro dei testi o avete condiviso ogni step diciamo della fattura di questa snack news ecco ci siamo divisi i compiti in base alle nostre abilità e passioni per esempio io e Manuel ci siamo occupati del girato e del registrare le varie parti mentre Simone e Sofia che purtroppo non è con noi si sono occupati della stesura della sceneggiatura e della parte grafica quindi i testi e i sottopancia invece il montaggio video l'abbiamo fatto tutti insieme una curiosità sulla vostra opinione su questo tema così controverso dopo averlo studiato perché naturalmente per poter realizzare una snack news ci si deve anche un po' confrontare con la complessità dei temi che idea vi siete fatti c'è davvero un concreto pericolo che gli artisti vengano messi in secondo piano dall'intelligenza artificiale o tutto sommato l'arte sopravviverà anche a questa allora essendo noi studenti di un liceo artistico ci siamo anche confrontati con dei nostri prof che sono artisti e ci siamo fatti dire la loro opinione ecco secondo loro l'iart potrebbe effettivamente oscurare il loro lavoro e quindi non sono d'accordo secondo noi invece è qualcosa che comunque essendo essendo comunque rivoluzionario non potrebbe oscurare la vera arte forse sbaglio ma mi è sembrato di vedere alcune opere di arte realizzata con l'intelligenza artificiale all'interno della vostra snack news è così e che tipo di esperimenti avete fatto dietro le quinte per arrivare all'immagine perfetta da utilizzare abbiamo utilizzato un sito che si chiama midjourney che come è stato descritto nel video parte da una linea di testo e genera un'immagine originale abbiamo provato per un po' finché non abbiamo trovato l'immagine perfetta perché cercavamo un'immagine che sembrasse dipinta da una mano umana e quindi sembrasse un vero dipinto bene devo dire che è stato molto interessante per noi vedere il punto di vista di studenti del liceo artistico come avete giustamente ricordato che si confrontano con questo tema di cui naturalmente continueremo a discutere anche nei prossimi anni perché sicuramente non è finita qui ancora complimenti qui vedete la vostra targa iniziamo a consegnarvela così digitalmente in attesa di farvela avere per davvero ancora congratulazioni e in bocca al lupo per i prossimi mesi e per i vostri strudi grazie mille grazie 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 ragazzi torniamo a noi per la chiusura è arrivato il momento di salutarci chiudiamo davvero in bellezza con queste due ultime snack su temi come la disabilità e il futuro che sono centrali in questo progetto fortemente collegati l'uno all'altro insomma veramente penso che non si potesse chiudere nel modo migliore snack news lo abbiamo già detto come lo conosciamo finisce qui ma proseguirà probabilmente come abbiamo detto non svegliamo troppo però tra fine settembre e ottobre per la settimana dell'educazione finanziaria sicuramente abbiamo già in campo un progetto che si inserisce all'interno del progetto Musa che è finanziato anche con i fondi del PNRR altro tema di cui abbiamo parlato tantissimo in questi anni si parla proprio già oggi è un tema di grandissima attualità di cui si parla anche ancora oggi e quindi niente non ci resta che salutarci e aspettare settembre ottobre assolutamente non perdetevi lo spin off possiamo chiamarlo così di snack news buona estate ci rivediamo molto presto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti